Agrigento, destinata a diventare la capitale italiana della cultura nel 2025, potrebbe presto dover fare conti con un grave problema ambientale, l'erosione costiera. Secondo l'associazione ambientalista Mare Amico, le spiagge della città rischiano di scomparire a causa dell'avanzamento inesorabile dell'erosione, un fenomeno che ora si manifesta anche durante la stagione estiva, causando danni non solo alle coste ma anche alle infrastrutture viarie. L'alarme sottolinea necessità di un intervento immediato da parte delle istituzioni regionali. In particolare, l'associazione ha rivolto un appello al presidente della regione siciliana Renato Schifani e all'assessore al territorio e all'ambiente Giusy Savarino, affinché si trovino i fondi necessari per frenare questo processo distruttivo. Bisogna intervenire immediatamente, altrimenti durante l'inverno sparirà per sempre il buschetto di viale delle Dunes a San Leone e l'attiva strada comunale. L'erosione costiera è un fenomeno che negli ultimi anni ha subito un'accelerazione anche a causa dei cambiamenti climatici. L'innalzamento del livello del mare e l'aumento delle mareggiate, in concomitanza con eventi meteorologici estremi, stanno devastando le coste siciliane ed Agrigento non fa eccezione. La speranza è che le autorità regionali rispondano con urgenza, attuando misure di protezione e salvaguardia per le spiagge di Agrigento, prima che il fenomeno erodivo cancelli per sempre uno dei principali simboli naturali della città. Grazie a tutti.